Che punto è la frattura tra Salvini e Lameloni? Penso che questa settimana sia al punto massimo, nel senso che dopo la divaricazione che c'è stata quel giorno sulle elezioni del Presidente della Repubblica, dal punto di vista politico è al massimo. Poi Renzi è con Conte al governo, il PD è col Movimento 5 Stelle, quindi gli ultimi due anni ci hanno dimostrato che divaricazioni molto più grandi, molto più consistenti, molto più dolorose, alla fine si sono ricomposte in 24 ore. Questa non si comparà in 24 ore, ma dal punto di vista politico non hanno molte alterazioni. Posso capire, perché io ho sentito Giorgia Meloni nelle sue interviste, un argomento è un leader del centrodestra vota un candidato al Quirinale di centrodestra, o almeno bisognava provarci. Io non ho ancora capito con quali voti potevate eleggere, non so, la Casellati, forse anche Gianni Letta che è stato più volte citato da Giorgia Meloni, cioè quali voti, dove si trovavano i voti per eleggere un Presidente di centrodestra? Con quali voti potevano? Sì. Io non voto, sono stato incidentalmente votato, non votavo e ho smesso di fare politica. Secondo me l'obiettivo che avevano prima delle elezioni non era quello di votare, era intanto di provare a votare un candidato al centrodestra pensando che ci fossero dei candidati del centrodestra in grado di allargare lo schieramento e quindi di prendere voti dall'altra parte, fossero 5 Stelle, ex 5 Stelle o parte del PD. E c'erano, secondo me, dei candidati, tra i molti che hanno espresso, di cui sono girati i nomi, che avevano quella possibilità. Se lei calcola che era stato indicato come candidato al centrodestra, Carlo Nordio, faccio un esempio, che tutto può essere, che non è mai stato bollato politicamente, uomo che ha partecipato alla Leopolda. Ma non c'erano i voti, era ben chiaro, tant'è vero che non sono neanche stati messi alla votazione. Sì, guardi, non sono stati messi alla votazione, lei l'ha detto. Quindi la differenza di impostazione era che qualcuno voleva verificare con la votazione se c'erano i voti. Si è visto con la Casellati che non c'erano. Visto che lei conosce la politica molto meglio di me, lei sa che la capacità di attrazione all'esterno della Casellati che c'era era accompagnata da una capacità di perderli all'interno. Nel senso che la Casellati ha avuto tutti i voti di Fratelli d'Italia, probabilmente tutti i voti della Lega e ne ha persi molti all'interno del suo partito, come sa chiunque. Basterebbe chiedere alla Sardoni. Per cui bisognava probabilmente candidare qualcuno che non ne perdesse dei suoi e potesse aggiungerne fuori. Che è una cosa, una ambizione, magari che non aveva successo, ma legittima. Cioè mentre invece, ed è secondo me la mente di Giorgia Meloni, non si è voluta giocare in fondo quell'ambizione, tra virgolette, democratica. Andiamo a contarci. Non si è voluto osare.